Vieni qui, vieni qui, non girare intorno E tutto gira intorno alla stanza, come si danza Come on! Hola, io sono Marcus Grom e bentornati nella scialla craft Nell'ultima puntata ci siamo lasciati con un mostro davvero ostico E' un boss spawnato a caso tra 5 tipi di mob spawner E guarda caso, c'è uscito quello stronzo Che entra, tipo, è intangibile, entra dentro i muri Eccolo qua, il maledetto L'altro, il suo gemellino, è morto dentro i muri E non mi ha droppato niente Io voglio uccidere i programmatori di questa fantastica mod meravigliosa Che è l'RPG Divine Dimension Vatta Pesca Detto fatto, ip di exit, pipipipipi Io direi di farcene un'altra Qui mi ero preso delle pozioni di visione notturna Per facilitarvi il compito Non perché io non ci vedessi, ma perché probabilmente su YouTube si vede un po' più scuro E... ergo io ritengo di dover fare qualche altro mob Cioè, qualche altro Bosh Quindi abbiamo fatto un base mob spawner E ho premuto R e non so che cos'è successo Molto interessante Quindi facciamo così è meglio, va Sì? Allora, questo qui ci dà il Vachero Vatta Pesca Il Carrot Con l'Uvite, due Augite e un Mitrol Molto bene Uvite, uvite, uvite a me Non abbiamo l'Uvite Uvite Uvite Where are you? Oh, it's here No, questo è Jungle Eccola qui Uvite Augite E non mi ricordo l'altro qual'era Qual'era? Qual'era? Era il Mitrills Ce l'abbiamo il Mitrills Yes Ok, molto bene Uvite Mitrills E... agite Chissà se posso scambiarli, no? Era così? Oh mio Dio Perché non ricordo le cose Ehm... Faccio così? Oh, oh, grandioso Ehm... All... No, era due Dio Uvite Scusate Ho detto una castroneria Carrot 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 Cacarrot 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 Andiamo Paravan, pam, pam Padavan, pam Padavan, pam Se questo vola E se mi опetizza dentro Le cose Spacco tutto Tradon, tradan Tradan Io intanto Visto I trascorsi Lo farei nella parte bascia Nella parte bassa Vai Twinkie Ma che cazzo Ma è un gigantesco Coso buccioso Ma come sei piccolo Oddio sei piccolo Manco quello zuffalo Però vabbè Vieni qui Pim 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 Sono circondato da stronti Mortacci Ma chi è lo che mi ha spinto Ah è quell'uridone là E vabbè Tin 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 Mori Mori Schifo Ma guardate quanto è grosso È così carino È un ghastly regen Oh mio dio Ma che cosa stanno facendo Io non li sto colpendo Li sto colpendo Adesso si Ma 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 Ci sono un po' troppi stronzi Da queste parti O mi sbaglio Mortacci vostra Ma quanti sede È bello di casa Ma fammi Fammi una cortesia Beh oddio fammi una cortesia Sta a ammazzare Ehm Vorrei mangiare Grazie Oh 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 Aio 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 Non ho capito Perché hanno preso fuoco Però vabbè Ah ma fa spunare Dei piccoli Micetti Qua Sembrano Dei grossi conigli Vabbè Vabbè State manzi Tanto ti rompo il book Lo rompo Ti ho detto Che sto rompe Perfetto Abbiamo trovato la posizione Aio 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 Guardate quanti Oh mio dio Ma che vuoi Vattene Schifo Nausea Nausea Regà Nausea È nauseabondo Tutto ciò Se qualcuno di voi Volesse morire Io giuro Che sarei molto 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 Contento Vabbè Sparo un po' La casaccia Perché li sto Accumulando Dappertutto Ok La nausea Se n'è andata Non ritorna più Questo mi sta Sparando Palle di fuoco Il problema È che Non vorrei Ucciderlo Nel senso Non vorrei ucciderlo Mentre sta dando fuoco A cose Il bello È che si è dato fuoco Da solo Sto cretino Dai manzo Guardate la gente Qui c'è un basilisco Qui c'è un ciccio bello No Non dare fuoco alle persone Perché Sei cattivo Oh mio dio 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 M'ha preso M'ha preso Via Io vedo Arigato No mai das Come si dice Ma se Vediamo un po' Lui mi segue Gli altri no Fantastico Portiamoci in un loco Perfetto Vieni qui Qui Micio 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 Qui Micio Micio Non riesco a prenderlo Perché È invisibile È intangibile È etereo Ti sto a romper book Chicco Chicco Ti sto a romper book Sei un boss mediocre Non come quell'altro Che si infila dentro le pareti E poi muore Da solo È morto È morto È morto Che ci ha dato Un cassio peda di niente Ma che diavolo sono sti cosi Sono Angry Bunny Angry Bunny Morite Morite Sciocchi Oh mio dio Basilisky Everywhere Bunny Per favore Vi levate Ah 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 Qui Qui Più 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 Ne ha uccido Più Arrivano A Accumulare Selvaggiamente Oh mio dio Si sono moltiplicati Oh ma sto per morire Ma è fantastico Cosa ci ha dato Non ci ha dato un cassio Tutto questo bush del cullo Per niente Bello Pim 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 31 Cioè io mi sono fatto questo E poi ho ottenuto questo Ma che pacco Che figata Ci ha dato un Alite 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 Posso produrre un alito di fuoco Ehm Figo Come si craftano? No non si craftano Ah probabilmente è il drop di questi mostri qua Ma è very well Anzi è verifico Bene 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 Torniamo a casettola A casettola Ehm Come si fa la pozione di Regen Eh Che è sta figata Health Regen No Questa qui Voglio fare questa qui Si fa con una pozione Grazie Con Una lacrima di ghast Ma io non ce l'ho le lacrime di ghast Perché vi fate questo? Come voi vi fate questo? Vabbè abbiamo fatto Scacarot Carot Cacacacacarot Cacacacacacarot E adesso Cosa facciamo? Cosa facciamo? Qui c'è Vamake Cacarontes Revoir Danzor Poi abbiamo Zichile Che abbiamo già fatto E Twilight Demon E infine Soulfield Crystal Che Soulfield Crystal Non so perché Non mi dice niente di buono Io voglio fare questo Quindi facciamo Ok abbiamo il Posiamo un po' di cosacce E andiamo un pochino a vedere Che cacchio esce fuori Ho letto sulla wiki che questi mob Spawnano only in this place Quindi andiamo qua Andiamo Stiamo andando? Mi scusi? Signor portale? Mi vuole portale? Mi sta portando? Ok 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 Intanto c'è ancora il nostro caro amico Dex Che gironzola Oh ma la mia spada è quasi una cacca ma No scusate devo tornare a Retra A Retra Franklin Shaparua Sotto questo sole Dimmi che te posso riparà Non è vero Non te posso riparà Manco se mi paghi Ci serve un po' di Enchant Eccolo qua No Yes Yes Sand slash Unbreaking Looting Questo ce lo prendiamo Allora Possiamo disinchantare un po' di roba Disinchantiamola Disinchant Ehm Vorrei disinchantiarla Posso disinchantiarla Molto bene Eh proprio proprio Debole butto perché che cacchio ce faccio Respiration Molto buono Ecco qua la fine che fai Blast Vatta pesca Leviamo tutto Siamo a 33 tenentirini E Leviamo anche questo protection Yes Very well Allora facciamo così E E E E E Ripariamo la spadozza Very 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 good C'ha sharpness E looting Questa c'ha Smite Unbreaking E looting Posso spostare Unbreaking E fare transfert Non ha funzionato No Non ha funzionato Così Non funziona E Così Boh Vabbè Non ho capito Le passo Mio marito Boh Boh Prima o poi troverò La mia La mia vecchia arma Quella che faceva Pim 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 Sicuramente non ho capito Dove possa essere finita Laggiù si è spento il portale No Oh my godness Eh Oh Eh Oh Ok Allora 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 Dicevo La mia nonnina Diceva sempre Quando sponi un mostro Molto cattivo Fallo lontano Da occhi indiscreti Quindi io Qui ci sono pochi stronzi Tranne questo Mio dio Mio dio Smettila di lanciare Ragnatele Smettila di sparare Come un ghast Tu non sei un ghast Sei Un coso rosso Vergognati Si vergogna Lei non è Un uomo Si vergogna Oh Oh Avete tutto il cassio Ok Ok Siamo pronti Pim Oh 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 Vabbè Sei una pippa Nel senso Tipo Non mi fai niente Sei velocissimo Lo ammetto Questo lo ammetto Però sei Oh Ti tengo a distante Ti tengo a distante Sono più veloce Io cordito Sono più veloce Io cordito 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 L'orgasmo è garantito Vieni qua No Però Mi prende a cornate Il bastardo No Non riesco Eccolo qua Vieni qui Vieni qui Non girare intorno E tutto gira intorno alla stanza Come si danza Danza Vieni qui Dai Maledetto Droppami la spada Voglio la spada Stai fermo Stai fermo Vabbè Faccio picchiare però Picchio anche io lui Dove stai andando La spada 82 Ora cazzotti 82 Ma che figo Qui c'è la ragnatela Sì Ragnatela Ehi tu Ragnatela Ragazzi Figo 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 Ci stiamo facendo i pezzi di A A A light A light blade Hi I'm a light Vabbè Detto ciò Io direi che è possibile Estrarre Come Come Da un frullato Queste Queste cose Tipo ad esempio io Questo qui Lo metto qui Poi levo Ok Faccio disenchant E diventa un libro normale Se io poi prendo questo Ci metto Unbreaking E faccio Transfer Me lo fa Transfer Se invece faccio così No Se invece faccio Così E ci metto Unbreaking Dov'è Unbreaking Eccolo qua Se ci faccio Unbreaking Molto bene Poi prendo Questo qua E no E no Forse dentro Questo qui The hand Yes Yes Ok It's correct Ok Molto bene E se adesso Facessi Tipo Un transfer Posso Transfertare Vediamo Tipo Sharpness And looting Transfer Oh Sharpness Looting Unbreaking Very good No aspetta Aspetta Non ha funzionato Io volevo fare Il contrario Sharpness Looting Unbreaking Ma dai No Perché 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 La domenica Mi lasci sempre solo Non devo andare così Cioè nel senso Io dovevo prendere Un libro Senti Tu sei flame No Non ce ne frega Niente di te Quindi io Ti desencianto Ora Ok Bravissimo Poi posso Trasferire Questo Dentro Al mio librozzo Si No Ma perché E dentro La mia spadozza Transfer Ma questa è la Science Lash Oh Regà Sono ricoglionito Scusate Smite Un break Ok Dentro qui Posso Fare così No Sotto Dio Ok Se invece Faccio Così E lo faccio Direttamente Tipo Mi riprendo Questi Livelli di Incantesimo Qua Ho dei seri Problemi Con Con Quest'arma Disenchanted Molto bene Siamo a livello 90 Faccio un Disenchanted Anche di questo Ma chi se ne frega E siamo a livello 135 Niente a che vedere Con le api Però vabbè Ok Poi faccio Un 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 Dove sei Un 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 Sharpness Molto bene Poi facciamo Un looting E poi ci mettiamo Un un breaking Ci vogliamo mettere Anche un efficiency Quanto costa 95 livelli Tiè E posso Transfertarlo No Però dai Cassiopea Me lo devi far mettere Dentro l'arma Altrimenti è un pacco Mega galattico Ci siamo riusciti Bello Bello Molto bello Allora Qua dentro Andiamo a mettere Quindi Indi coscia Alza la coscia E pistia Invece che tre Questa No anche queste Sono carine Le lascio qua Very good Quindi abbiamo La spada E il Faser Quindi lo scettro Della pemaia Lo possiamo lasciare Qua dentro Adesso cosa ci manca Cosa ci manca Cosa ci manca Uh Abbiamo fatto Il vatte a pescos Il carcot E adesso facciamo Il renois Il renois Si fa con Una uggite Una travite E una azzurrite Abbiamo l'azzurrite Perché Sì ce l'abbiamo Un uggite Due augite Molto bene Quindi andiamo A collocarle Nell'apposito Spazio Un po' Casualmente Vediamo che Non esce assolutamente Nulla Come cacchio Era Oh my godness Era 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 Ah Travite Perdonatevi Travite E azzurrite Via questo Via questo Revoir O revoir Andiamo a rompere Qualche bocca Ma questi non danno Statue Sti zozzi luridi No Sembrerebbe Andiamo Spero che C'è nel senso L'unico boss Che voli Sia Quello là Intanto qui c'è Il nostro caro amico Dex Ritorniamo Nel nostro posto magico Sperando che Non sia Irto di pericoli No Sembra tranquillo Vediamo un po' Che co Ma che co State calmi Ma che Questo c'ha La spada mia Abbastarda Perché quello Mi picchi E quell'altro No Cazzo Quanta vita Oh oh Quello c'ha l'arco Quello c'ha l'arco E rompe i buc Sono sicuro E rompe i buc Quello con l'arco Perché Non ha una cadenza Molto Molto ottima Scusate Ma questi qui Entrano In In una In un buco largo 2 No Io non mi porto mai In materiale a costruzione Dannazione C'è da dire Che quello Non è un grande Arciere Bello De casa Sparisci dalla mia Vista Io te rompe i buc Io mi ricordo Quando Cioè nel senso Non voglio assolutamente Criticare questa mod È davvero Enorme Gigalitica Gargantoesca E chi più ne ha Più ne metta Però È sempre meglio Fare qualcosa in meno E fare qualcosa di più Di più godurioso Piuttosto che fare Tutto sto marasma Di dimensioni E poi A fin fine Ogni volta Io in una dimensione Vado in un'altra Tipo sto boss Lo sto battendo Facendo così Clic 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 Ecco Ad esempio Io batto questo Oh Figo Cazzo Figo Cazzo No 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 Figo cazzo Adesso gli rompo il culo Io batto questo qui Il fratello Questo qui Si trasforma Diventa qualche altra cosa Si incazza Aumenta il rating Della Bbbb E invece no Invece tutto Rimane abbastanza regolare Ah bene Era una Una critica Oh Mi hanno dato una statua Dancer Statua Statua Quindi ogni tanto la droppano mamma mia quanto è brutta no 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 tonight siete davvero davvero molto belli no non ti mettavo messo bene bravo bravissimo allora abbiamo queste due armature che sembrano davvero fighe e sostanzialmente questi boss mi lasciano pensare che il gioco ti stia suggerendo ehi prima di andare avanti fatti questa armatura altrimenti ti rompo l'arbook e poi aggiunge 24 punti di danno all'attacco corpo a corpo quindi andiamo a quasi 100 è davvero good prendiamo del mitril e facciamo un'altra pallina visto che ci stiamo ne facciamo un'altra ancora poi premiamo U e andiamo a vedere questo l'abbiamo fatto questo l'abbiamo fatto fatto ma ho fatto adesso Renoir è strano e vabbè ci toccano i twilight demon azzurrite augite e mitril ho soltanto un mitril e non ho azzurrite azzurrite eccola qua augite augite qual è l'augite? uh per favore oh no eccoli 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 twilight demons azzurrite no è mitril mi sono drogato sono drogato improvvisamente mitril azzurrite augite vediamo twilight demons crystals very good come on guys andiamo 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 dai 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 te le portami ok andiamo qui bella per voi io volo guarda come sgambetto pipitipipipipipi intanto c'è ancora quel boss maledetto eccolo ti rompo il buc no in realtà sta morendo da solo lentamente come impreda una triste agonia vediamo un po' se c'è qualche stronzone no beh oh cristina d'avena no raga che cazzo non cascare ti prego non cascare mio dio ma che effetto fighissimo è davvero figo non credo che cazzo che cazzo è successo ah il tizio il mio caro amico tester ok ho di nuovo la vita fammi vedere che succede ma non se la prende con me Lello no era soltanto un effetto mortoccide Peppe ma che figo ecco questo è figo cioè ogni volta che mi fa danno mi fa sto effetto qua si non è a distanza è proprio ogni volta che mi tocca io adesso tengo le distanze e poi il fatto è che non ho capito se mi manda anche qui c'è un basilisco che deve da romper cassio se mi manda voglio provare a fare una cosa oh ha bello di casa però che cacchio quanto meno mi nicchia è lurido non t'avvicinà non t'avvicinà non t'avvicinà schifo 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 oh cacchio stavo facendo un'ottima serie mortacci ok sta quasi a metà ciccetto io vorrei buttare di sotto sti basilischi posso buttarli? no è molto difficile buttare di sotto un basilisco soprattutto quando sembra un porcellino andiamo a picchiarlo a mani nude muori 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 male niente e se mi mettessi qui no tu saltelli provi a prendermi o ti meno vediamo un po' comunque sono inquietanti sti mostri ho fatti male graficamente però comunque sono inquietanti è una cosa interessante vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua dai che ci siamo chissà che ci troppa questo questo ci dovrebbe troppare qualcosa di strange tipo il fucile non mi interessa perché va a munizioni però sarebbe figo 300 di vita lo porto a 200 e poi lo finisco a spadate anzi lo porto a 100 addio amico mio che ci ha dato? l'arco prendi l'arco e mettilo da parto va bene ma molto bene esplodete maledetti non vi sopporto siete ridicoli siete brutti sembri una piccola balena triste spiaggiata ok ok ci ha dato l'arco vuoi vedere che quei due bastardi di cui uno sta ancora svolazzando laggiù che usa i fury arm fury fury arm eh con la uccite 4 ma che siete impazziti completamente ma che davvero davvero no 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 non si può fare mica così eh non si può fare mica così ganoman vridi ehm io vorrei tanto uccidere il signor dex ma se il signor dex non si fa vedex io mi faccio ucciderlo cioè ogni tanto arriva mi dà una stecca e se ne va non sortisce alcun effetto però oltre a essere oltremodo fastidioso a bello de casa chicco eccolo gli ho levato 51 guardate come gli scende la vita sto lurido maledetto eh mi sa che mi tocca vedere se sono loro che tipo droppano il resto dell'armatura è interessante questa cosa che i boss ma abbiamo finito i boss siamo sicuri allora fatto 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 io questi qui non l'ho capito perché ho ucciso ho evocato questo e mi ha dato la statua del dancer forse sono due fratelli splendidi e gimelli con una cosa in più terry e maggie magic girls e ah sul field of crystal manca noi abbiamo fatto il twilight demon crystal ok dai andiamo a fare quello ma chi se ne frega il mio caro amico dexter dexter tutto bene no 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 sbaglio il libro si sono due fratelli se evochi uno credo che evochi anche l'altro credo eh questo è il twilight demon l'abbiamo conosciuto e ci manca il sold soul field statue no vabbè demon credo andiamo a fandolo andiamo a fandolo come si fa si fa con un uvite un azzurrite un mitril e un dravite allora uno 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 e mi serve un urvite eccolo qua un urvasi eeeh piripi 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 e piripi soul field fiend fiend come cazzo vabbè ci prendiamo del materiale da costruzione perché se è come quelli di prima io mi rintanerei come un porco andiamo a fare il culetto andiamo a fare il bazzatarallo oh eccolo eccolo per un momento oh posso seguire i suoi passi per un bug di minecraft c'ho ancora no non ce l'ho ancora eccolo 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 vieni qui eccolo ma perché non lo prendo seguiamo i suoi passi io quasi quasi gli sparo con questo vieni qua no dannazione hai visto che lurido immenso sto cane ho paura te sei preso 100 danni eh chicchetto ragazzi io credo che spetterò qui perché voglio assolutamente vedere vabbè tanto quello se prende i danni io torno nel mio posto segreto faccio così intanto voglio vedere se questo ah ok si può scavare molto fine rompiti rompiti e rompiti allora se è un mostro alto più di due non dovrebbe farcela a romperci il book eh a bello di casa eh ragazzo mio hai beccato uno intelligente mi dispiace altrimenti ti tiro le cacchette eh pim 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 sei poco temibile sinceramente voglio uscire allo scoperto con te andiamo eh mortacci tua mi blindizza e mi nausizza eh mi sa che comunque sono cacchietti tuoi se provi a sbroccolar qua dentro che te incastri eh ragazzo mio e fai una fine anche con i tuoi 5.000 HP spero che voi vediate in caso contrario vi voglio bene no non è vero bello di casa ti sei incastrato oh piccolo mi dispiace adesso prendi tantetotto e voilà che c'ha da no che pacco ci ha dato questi 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 cosi le hanno 42 eh ha oggetto dirt ah vabbè ma l'ho scavata adesso adesso allora questo questo mostro era un pacco megagalattico quindi l'unica conclusione a cui possiamo giungere è che intanto te tiro oh ma che fighi sono fighissimi è che mi mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia cazzo cazzo e qui vieni qua mamma mia adesso questo lo faccio nero è che comunque le braghe anzi no le pepette e la testa dell'armatura figa lo droppano sti due stronzi di cui oh 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 si è visto si è visto si vede dov'è 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 il luridone eccolo no dai 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 cazzo ladra c'ha 200 punti ferita si ha messo male si ha messo malissimo basta che lo prendo tre volte quindi devo essere paziente e dai no non morire lì dentro ti prego non morire lì dentro ti prego ti prego ti prego esci 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 dai dai dexterino dexterino esci da lì per favore no non mi dire che sei morto sei un coglione sei morto lì dentro ma io non lo so no è ancora vivo si l'abbiamo ucciso l'abbiamo ucciso che cacchio stai facendo ma il mio drop eccolo aio le pepette e cazzo dobbiamo rievocare quell'altro dannazione andiamo a vedere un po' la nostra questi qui non sono per niente male come si fanno ah non si fanno te li troppa lui accidenti siamo verdognoli oh la mia questa è proprio la mia armatura no raga che figa ma è fighissima fammi levare lo scudo come si come che tasto avevo messo all'inventario dov'è rpg semi semicolon o un semiculo punto punto intero punto ecco questo qui e questo le diamo un attimo scudo di diamante guardate che figo che sono ma questa è l'armatura in mega posa raga qui ci vuole uno screenshot così vuole lo screenshot così così buono ragazzotti io terminerei qui questa puntata nella prossima andiamo a concludere questi pezzi di armatura anche se devo dire che è fighissima anche così però con l'elmo avremo il più 24 al danno che non è affatto bad ma quello è un Kriper io sono marcus cron noi ci vediamo nella prossima puntata c'è quella di venerdì all'1.30 ciao a tutti ragazzotti sono superman no sono batman ciao a tutti Grazie.